La Magdalene, piccolo comune a poco più di 1600 metri nella Valtournansh, risponde con l'offerta di un parco giochi rinnovato che ha già registrato 3500 ingressi dalla riapertura lo scorso 27 dicembre. Il comune, proprietario degli impianti gestiti in collaborazione con una società privata, ha investito 50.000 euro per ampliare l'area che ora, cresciuta rispetto a quella aperta nel 2002, si estende su circa 5000 metri quadrati. Prevalentemente famiglie delle regioni vicine con bambini e bambine al loro battesimo della neve popolano i due tapirulanti, una pista baby, una seconda per discesa su Bob e Ciambella e l'area con giochi gonfiabili per i più piccini. C'è anche una piccola pista di patinaggio su ghiaccio che ha però bisogno di temperature rigide. Gli utenti si dicono soddisfatti per offerte e costi contenuti, 6 euro per tutto il giorno dalle 9 alle 16.30, Bob e Ciambella inclusi. Con l'ambizione di ulteriori ampliamenti è soddisfatto il sindaco, Edy Dugiani. Abbiamo fatto un investimento abbastanza forte e sostenuto per il nostro piccolo comune, come diciamo casi, di 50.000 euro. A livello di incassi abbiamo una previsione nell'arco dell'anno ovviamente di circa 40-45.000 euro, ovviamente non andremo alla pari. Poi quello che come amministrazione ovviamente noi ci teniamo molto a tenere aperto perché abbiamo l'indotto, quindi abbiamo le attività, le seconde case, le attività commerciali. Bambini per un giorno non sono pochi gli adulti che cercano una gioia infantile e provano l'ebbrezza della prima sciata. Matteo da Milano, primo giorno di sci? Sì, tutto bene a parte qualche caduta. Ma come ci sentiamo? Un po' bambini cresciuti che apprezzano la neve la prima volta. Sì, anche un po' imbranati diciamo, sì, sì sì.